E continuiamo il nostro giro del mondo alla ricerca delle case automobilistiche elettriche più interessanti spingendoci di nuovo ad est. Ma non del tutto, infatti ci possiamo fermare tranquillamente all'estremità del Mediterraneo con un'azienda che ha presentato il suo ultimo prodotto al CES di Las Vegas 2022. Oggi parleremo infatti della compagnia turca TOG. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Immagino che moltissimi di voi non siano per niente al corrente di questa azienda. Ed è proprio per questo che ho voluto parlarvi di TOG, per mostrarvi i loro prodotti e il futuro che potrebbe aspettare questa nuova compagnia turca. Ma prima di cominciare non scordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per non perdere nessuno dei prossimi video in uscita. Ho notato inoltre che tantissime persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte. Stiamo parlando di oltre il 90%. Iscriversi non costa niente e aiuterebbe tantissimo a far crescere questo canale e a far vedere queste case automobilistiche semi sconosciute a molte più persone. Grazie mille. TOG ovviamente è un acronimo di una frase turca che non starò qua a provare a pronunciare perché romperei i vostri schermi del computer o del cellulare da dove state guardando. Ma tradotto sarebbe molto simile a Gruppo Automobilistico della Turchia che nasce nel giugno del 2018 a Gapze che si trova a pochissimi chilometri fuori da Istanbul. Grazie alla collaborazione di investimenti di diverse holding, la Camera del Commercio Turca che è una cosa molto importante da ricordare per dopo ed anche aziende singole che potrebbero aiutare TOG nella crescita sia finanziaria ma anche per sviluppare alcune tecnologie. Le notizie che si trovano online rispetto a TOG sono davvero limitate. Quello che però sappiamo è che a differenza di tante altre startup che abbiamo visto spuntare negli ultimi anni TOG è già un ottimo punto nella costruzione del suo primo stabilimento produttivo che si troverà a Gemlik sempre in Turchia e dovrebbe concludere i lavori ed iniziare la produzione a giugno 2022. Questo sicuramente non è un fattore da sottovalutare dato che anche tantissime altre case automobilistiche che abbiamo visto su questo canale non hanno ancora un luogo, una fabbrica dove costruire in massa i propri veicoli. Seguendo alcune interviste dell'amministratore delegato di TOG, Gurshan Karakash con questa azienda si è voluto creare un mix tra il mondo orientale ed il mondo occidentale ovvero tra il mondo molto emozionale, che potrebbe essere quello orientale e quello più pianificato e progettuale, che sarebbe quello occidentale. Questo risulta anche visibile nel logo dell'azienda che raffigura due frecce che puntano, una verso est e una verso ovest. Questo immagino sia dovuto molto dalla posizione geografica della Turchia che in tutti gli effetti si trova tra due mondi esattamente a metà tra l'occidente e l'oriente. Ma non perdiamoci in chiacchiere, parliamo dei veicoli che TOG ha intenzione di mettere sul mercato. Ad oggi TOG ha presentato tre prototipi di QE, due SUV crossover e una berlina. Questi due crossover in realtà sono in pratica la stessa cosa, cambia solamente il design frontale dell'auto, ma gli interni, la batteria ed anche il motore sono a tutti gli effetti gli stessi per tutti i due veicoli. Il SUV crossover di TOG dovrebbe iniziare le vendite verso la fine del 2022 e per quanto riguarda le specifiche tecniche non stiamo neanche parlando di un veicolo di fascia bassa dato che l'azienda ha dichiarato che si potranno scegliere tra due pacchi batterie che avranno rispettivamente 300 e 500 km d'autonomia sotto al ciclo VLTP. Mancando però di indicare la capacità di queste batterie che è una cosa fondamentale, Questo crossover arriverà anche con due varianti per la configurazione dei motori, ovvero uno singolo con trazione posteriore da 200 cavalli o 150 kilowatt e una versione dotata di due motori elettrici che permette all'auto di avere una trazione integrale e di sprigionare fino a 400 cavalli o 300 kilowatt di potenza. Questa potenza ovviamente risulta anche in una diversa accelerazione o scatto 0 a 100 che sarà rispettivamente di 7,6 secondi per la versione single motor e di 4,8 secondi per la versione dual motor con una velocità massima indicata per entrambe le versioni a 220 km orari che però sarà autolimitata a 180 km orari immagino per preservare la batteria e anche l'autonomia. Quest'auto inoltre al suo interno avrà tantissima tecnologia come possiamo vedere da subito dando un occhio al cruscotto che al suo interno ospita uno schermo che si estende per tutta la sua lunghezza. Avrà anche un secondo schermo da 10 pollici posto al centro ed altri due schermi posti alle estremità che fungono da specchietti laterali. Essendo questo SUV dotato di telecamere per questi ultimi, ovviamente. Come design mi ricorda un po' quello della Honda i ma ha fatto meglio. Tog ha dichiarato anche che l'auto potrà ricevere aggiornamenti al software tramite dei Yota o Over The Air Update grazie alla possibilità di connettersi via 4G o anche 5G e ovviamente anche tramite Wi-Fi, questo lo do per scontato. Secondo l'azienda inoltre questa funzionalità di connettersi al 5G consentirà all'auto di avere una guida autonoma di livello 3. Ora vi sarete sicuramente resi conto anche voi che le informazioni che abbiamo su questo SUV crossover sono davvero poche. Infatti non sappiamo nemmeno il nome, lo sto chiamando SUV crossover perché non esiste ancora un vero nome ufficiale per questo veicolo. Devo dire però che alcune delle informazioni che ci sono state date sono a dir poco coraggiose ed ovviamente mi sto riferendo al fatto che l'azienda dichiara di avere una guida autonoma di livello 3. E per chi ha visto il mio video sulla guida autonoma, ve lo linko qua sopra, sa bene che non è una passeggiata nel parco andare a risolvere questo problema immenso che è la guida autonoma. Ma parliamo adesso della cosa che interessa alla maggior parte di voi e in realtà anche interessa a tutti ovvero il prezzo a cui potremo un giorno comprare questo crossover SUV. Toga ha dichiarato infine che questo SUV crossover arriverà sul mercato al prezzo di 617.000 lire turche che si traducono all'incirca in 40.000 euro. Questo per la versione base, fino ad arrivare ad un milione di lire turche ovvero quasi 62.000 euro. Ma prima di parlare dei problemi che potrebbe incontrare questa nuovissima casa automobilistica parliamo del mezzo che ha presentato al CES o Consumer Electronic Show del 2022 a Las Vegas che si è concluso pochissimi giorni fa. Quello che è stato presentato in pratica è una berlina concept car che negli interni risulta essere un po' più particolare rispetto alla sorella maggiore ovvero il SUV crossover ma in generale lo stile rimane lo stesso. Ma si vedono diverse differenze con il crossover ovviamente nella forma di quest'ultimo ma anche nella UI ovvero l'interfaccia utente. E sia il design esterno che questa interfaccia utente sono state create grazie alla collaborazione di una casa di design che conosciamo bene e che abbiamo visto collaborare con altri brand nuovi almeno per noi occidentali. Ovviamente mi sto riferendo a Pininfarina che recentemente abbiamo visto collaborare con l'azienda vietnamita Vinfast anche di questa azienda recentemente ci ho fatto un video quindi andate a vedere anche quello una volta finito questo video ovviamente. Durante la presentazione di questo veicolo l'amministratore delegato di TOG si è soffermato non molto sull'auto e sulle sue specifiche tecniche che in realtà non sono poi state date ma si è dilungato a spiegare come l'idea generale dell'azienda sia quella di trasformare una semplice auto che ti porti da A a B in un vero e proprio device che si aggiorni in base a come tu proprietario la utilizzi andando ad integrare la possibilità di pagamento intelligenza artificiale e la necessità di trasformare quest'auto in un vero e proprio smartphone su ruote. Come altre notizie sappiamo che l'azienda ha intenzione di creare fino a 5 modelli entro il 2030 ma che la produzione sarà veramente limitata ovvero di 175.000 unità l'anno. Per quanto riguarda invece le batterie che finiranno dentro alle auto di TOG saranno prodotte da una compagnia cinese chiamata Farasis Energy che a detta dell'azienda garantiranno fino a un milione di chilometri ed un tempo di ricarica dal 10% all'80% intorno ai 30 minuti. Detto questo parliamo un attimo dei tasti dolenti che ha TOG L'azienda negli ultimi anni ha visto diversi criticismi colpirla una di queste è il SUV crossover che ricorda molto la K550 SUV Concept di Pininfarina ed anche l'amministratore delegato di TOG ha dichiarato che i due veicoli sono molto simili ma non sono la stessa cosa contando però che in seguito sono andati a collaborare nella costruzione della loro berlina concept car che hanno presentato appunto al CES 2022 diciamo che possiamo passare oltre a questo criticismo. La seconda critica che è anche quella molto più grande nasce dal fatto che la compagnia ha ricevuto diversi investimenti dal governo turco ed è stata dichiarata una mossa solamente politica dagli oppositori del governo Erdogan. Ora io ovviamente non posso sapere se è stata una mossa solamente politica o meno quello che so è che avere il governo dalla propria parte un po' come succede per la maggior parte delle aziende in Cina può avere i suoi contro cioè ti può limitare può limitare in questo caso TOG ma nello stato embrionale da startup in cui si trova TOG è un finanziamento continuo che è necessario per farti crescere senza rischiare di andare in banca rotta dato che nei primi anni queste aziende bruciano tantissimo capitale. Quello che mi fa piacere di TOG in realtà è il fatto che prima di mostrare i propri veicoli e sicuramente esagerarne alcune delle specifiche tecniche e tecnologie come poi fanno in realtà tantissime altre case automobilistiche ha deciso di creare per prima cosa la propria fabbrica e poi farsi della pubblicità andando a fare della pubblicità su qualcosa che magari esiste e o esisterà molto presto. Quello che invece non mi piace per niente è il fatto che abbiano dichiarato di avere un target di solamente 175.000 unità l'anno che nel mondo dell'automotive è assolutamente nulla. Insomma io non so davvero cosa pensare di questa azienda quindi voglio sapere cosa ne pensate voi e fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E questo era veramente tutto per il video di oggi. Io vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille. Noi ci vediamo in un prossimo video.